Anche Roberto Gionelli, delegato provinciale di Piacenza per Inconi, è venuto alla presentazione della campagna abbonamenti, nuova campagna abbonamenti del Piace. Robert, parte un progetto ambizioso, cosa te ne parlo? Si, parte un progetto ambizioso e innanzitutto ci tengo a rimanerlo a fare confermenti a la famiglia Gattier, a Marco Stefano Gatti, a Paolo Settestino, a tutta la dirigenza, per il lavoro che è stato fatto finora e vedo che hanno deciso di incrementare i loro sforzi e quindi vuol dire che la società ha anche l'intenzione di guardare lontano. Questa campagna abbonamenti lo dimostra, una bellissima cosa è il fatto di riaprire i distinti, sappiamo che è un settore molto importante, dove oltretutto c'è sempre stato negli ultimi anni, nel nostro glorioso Piace, un tifo molto vivo, molto caldo e quindi la speranza è che si ripeta nello stesso periodo vissuto negli anni passati. Una campagna abbonamenti, lo dimostrano i prezzi, che aiuta, va veramente incontro ai tifosi, l'auspicio è che veramente questa squadra che sta crescendo costantemente, giorno dopo giorno, abbia ineritato appoggio da parte della tifoseria piacentina. Mi fa particolarmente piacere anche vedere che la società ha creato delle partnership con delle realtà del territorio, le realtà importanti del territorio, questo significa che il Piacenza Calcio, il Renato Piacenza Calcio ha sposato il territorio piacentino e questa è una cosa molto importante, comunica il territorio piacentino, aiuta a portare Piacenza e la nostra città, oltre ai confini provinciali, anche in giro per l'Italia e quindi attraverso lo sport è un veicolo importantissimo, anche questo è un segnale di quanto la società voglia guardare lontano e quindi mi auguro davvero che la risposta dei tifosi piacentini, degli sportivi piacentini sia adeguata, c'è ovviamente un bel e entusiasmante campionato come quello dello scorso anno e quindi è tutto il nuovo a Piacenza per arrivarsi un campionato. Grazie a tutti!